Cioè, non devi parlare di stato psicologico di recuperare, ma non mi chiedevo proprio... Decima vittoria di fila, sei entrato di diritto nella storia della Lazio. Sì, fa enormemente piacere, perché è un bellissimo record, perché 10 vittorie consecutive, più in queste 10 vittorie abbiamo pure un trofeo. Bisogna fare i complimenti a questi ragazzi. Abbiamo vinto una partita non semplice, ma lo sapevamo, perché abbiamo giocato contro una grande squadra che appena perdi un attimino distanze, hanno giocatori che in mezzo alle linee possono darti tanto, tanto fastidio.